Ragazzi buongiorno e bentornati sul canale del coach Umberto Mileto. Devo prendere le proteine e la creatina per fare massa muscolare? Questo un po' l'argomento del video di oggi. Non sapete quante volte ho ricevuto queste domande e in special modo questa domanda mi viene fatta da soggetti poco esperti e generalmente soggetti giovani, ma secondo me anche perché vedono tutti questi influencer sempre con i biberoni e prendono creatine, prendono proteine, prendono queste, prendono quell'altro e allora questi ragazzi giovani ovviamente non ancora esperti del settore, non conoscono la materia, ovviamente non sanno se quello che gli stanno proponendo sia la realtà oppure è fatto per diciamo veicolare determinati codici sconti che questi poi influencer riciclano. Allora di base non ti serve assolutamente prendere le proteine in polvere e la creatina se non ne hai la necessità, quindi il mio consiglio soprattutto per quei soggetti che iniziano l'allenamento, io cercherei soprattutto all'inizio del tuo percorso d'allenamento quando il tuo fisico è veramente molto sensibile all'allenamento stesso ma anche alla nutrizione, io andrei avanti con le cose più pratiche e naturali possibili, quindi senza dover andare a prendere tutti questi integratori perché comunque all'interno di questi integratori comunque ci sono non solo l'integratore o quello che ti propinano ma anche conservanti, coloranti, dolcificanti eccetera eccetera eccetera, quindi tante robe chimiche che comunque ti vai a prendere, ne prendiamo già talmente tanto, ma solo pensare all'aria che respiriamo, cerchiamo di evitare le cose inutili. Ecco non sto dicendo che le proteine in polvere e la creatina siano inutili, sto dicendo che in un percorso ragionato all'inizio cercherei di dare priorità al buon allenamento e all'alimentazione costruite in una maniera tale che possa andare a soddisfare le tue richieste energetiche per soddisfare i tuoi obiettivi e i tuoi allenamenti. Questo secondo me è sempre la base. Poi se hai una vita incasinata, non riesci ad introdurre le giuste quantità di proteine, allora puoi andare a prendere determinate proteine in polvere perché vanno ad integrare le carenze che tu hai e va benissimo, va benissimo, però prima di passare all'integratore prova a vedere se ce la fai con la classica alimentazione. Non ce la fai, allora puoi andare a prendere le proteine in polvere. La creatina secondo me ha un ruolo differente, quindi non per forza è fondamentale nella tua nutrizione, ma potresti utilizzarla se vorresti, se vuoi andare a migliorare leggermente le tue prestazioni perché la creatina rientra un po' nelle, modifica un po' i meccanismi energetici, quindi ottima per andare ad incrementare i livelli di forza e quindi poi diciamo in abbinamento indirettamente anche l'ipertrofia muscolare. Anche la creatina è sicura, hanno fatto tantissimi studi, punterei sulla classica creatina monoidrata senza inventarmi di andare a prendere creatine che ti fanno solo spendere tanti soldi inutili. E anche qua però di base ci deve essere un ragionamento, nel senso che tu sai bene che se prenderai la creatina i miglioramenti li vedi fin tanto che assumi la creatina. Ok, questo deve essere chiaro. Quindi o decidi di prendere la creatina tutta la vita o se no a un certo punto, tra tre mesi, quando smetti, quei piccoli miglioramenti che ti ha dato la creatina, due chili in più sul bilanciere, tre chili in più sul bilanciere, che ne so, mezzo chilo di peso corporeo, un chilo di peso corporeo, tu devi sapere che quando interrompi quella, quei benefici va via. Ok, questo è per forza di cose, no? Non nascondiamoci, magari non va via subito ma nel giro di tre mesi quei benefici li vai a perdere. Ok, perché ovviamente sei riuscito a spingere di più, sei riuscito a prendere quel peso in più perché avevi il supporto della creatina. Quindi secondo me di base questo, io personalmente non prendo la creatina perché tanto se poi devo avere dei picchi e puoi scendere, tanto vale, io mi alleno per star bene e quindi assolutamente mi alleno senza, spingerò due chili in meno, ma va benissimo in questo modo. Quindi anche questo devi essere conscio di quello che ti può servire. Quindi se sei un ragazzo giovane, le proteine possono aiutarti perché magari non hai, diciamo, la possibilità di reperire sempre la quota proteica giornaliera che devi assumere, quindi potresti però farti con la creatina. Secondo me se la vuoi provare, la puoi anche provare però sapendo che poi quando smetti quei benefici li vai a perdere. Ok, questo è un po' quello che volevo dire in relazione alle proteine e alla creatina per la massa muscolare. Non sono fondamentali, puoi crescere muscolarmente anche senza proteine in polvere e creatina, purché tu devi andare a modulare bene la tua dieta e ovviamente dovrai sempre darci dentro con gli allenamenti. Quindi non seguire troppo le persone che in ogni occasione sono lì a propinarti integratori, ce la puoi fare andando ad organizzare bene una dieta sana ed equilibrata con quello che la natura ci offre e andando ovviamente ad organizzare al meglio i tuoi allenamenti. Come sempre grazie per l'attenzione, spolliciata per il coach e ci si vede alla prossima. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai vieni sul mio sito umbertobiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai corri subito! Vinicolo Gotta factors Crom profession Vier Vieri 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 V Mari